Diva Optic, convenienze e professionalità nei servizi ottici. Il personale qualificato di Diva Optic, dopo un accurato esame, offrirà prodotti adatti a tutte le esigenze. Troverete una vasta gamma di occhiali da sole e un'ampia varietà di lenti oftalmiche personalizzate, progressive di ultima generazione, sottili e senza effetto di ingrandimento, lenti per computer, con filtro UV e polarizzate, occhiali da vista antiriflesso per bambini, contattologo in sede e lenti a contatto dei migliori marchi. Diva Optic e in via Edoardo Donofri 88.